Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele con Like, vi do il benvenuto all'interno del mio canale. Come al solito siamo in super mega hiper ritardo, quindi mi sono cambiato al volo e niente, partiamo, andiamo alla fiera perché fidatevi che sarà una gran 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 bellissima cosa perché alcune parole qua su YouTube non possiamo dirle però merita tantissimo, io l'ho già vista ottobre e è una cosa eccezionale. Quindi ora vi lascerò a tutto quello che è la fiera e noi ci vediamo alla fine. Ciao! Grazie a tutti! 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 Ciao! Ciao! !